Melville, Il fiasco felice, una storia del fiume Hudson. Si era rimasti d'accordo che avrei incontrato il mio vecchio zio in riva al fiume, esattamente alle nove del mattino. La barca sarebbe stata pronta e l'apparecchio l'avrebbe portato il suo vecchio negro dai capelli grigi. Fino a quel momento la natura dello straordinario esperimento restava un mistero per tutti. Sì, tranne che per l'inventore. Fu il primo all'appuntamento. Il villaggio si trovava a una certa distanza, a monte, e il sole estivo che invadeva la valle era già ardente. Poco dopo vidi il mio zio avanzare sotto gli alberi, con il cappello in mano e asciugarsi il sudore, seguito a una certa distanza dal povero vecchio Iorpi, che incespicava sotto ciò che poteva sembrare una delle porte di Gaza. «Forza! Spicciati, Iorpi!» gridava mio zio, voltandosi di tratto in tratto impaziente. Quando il negro giunse, infine, alla barca, vidi che la grande porta di Gaza si era trasformata per l'occasione in una grossa e misteriosa cassa oblunga, ermeticamente sigillata. Aveva un'aria così insignificante da rendere anche più sfingeo il mistero celato nel suo interno. «E' questo, dunque, lo straordinario apparecchio?» chiesi io, profondamente stupito. «Ma non è che una vecchia e malandata cassa da imballaggio, chiusa da ogni parte?» «Ed è questa la cosa, zio, che dovrà farti guadagnare un milione di dollari prima che l'anno sia finito?» «Che vecchio cassone, melanconico e poco appariscente! Andrebbe bene per deporci la cenere!» «Caricala sulla barca!» rugì mio zio ai orpi, senza neppure badare al mio infantile disprezzo. «Caricala sulla barca, o mio canuto cherubino nero! Attento, sta attento! Se quella cassa scoppia, la mia sempiterna fortuna va a farsi benedire!» «Se scoppia, va a farsi benedire?» esclamai io allarmato. «Spero che non sia piena di combustibili!» «In fretta, lasciatemi sedere all'altra estremità della barca!» «T'affermo, scioccone!» urlò di nuovo mio zio. «Salta su, i orpi, e afferra stretta la cassa come se tu fossi la morte, mentre io mi spingo a largo!» «Attento! Attento! Ho testa di rapa di un negrone! Vada all'altro lato della cassa! Ti dico! Ma vuoi proprio rovinarmela, quella cassa?» «Che il diavolo se la porti, questa dannata cassa!» murmurò il vecchio i orpi. «È stata la mia maledizione questi dieci anni! È stata!» «Ecco! Adesso siamo a largo! Tu impugna un remo, ragazzo! E tu, gli orpi! Mi raccomando, la cassa!» «Pronti? Partenza!» «Attento! Attento! Eh, gli orpi! Piantala di scuotere così la cassa!» «Calma! Attenti a quel tronco! Adesso, forza! Urrà! Finalmente ci troviamo in acque profonde! E adesso, olio ai gomiti, ragazzo, e partiamo per l'isola!» «Per l'isola?» chiesi io. «Ma non c'è un'isola in vista! Ce n'è una a dieci miglia sopra il ponte!» mi rispose mio zio imperterrito. «Dieci miglia sopra il ponte? Trascinare questo vecchio cassone? Dieci miglia controcorrente, sotto questo sole che spacca le pietre!» «Unica cosa che posso risponderti, dichiaro a mio zio anche più fermamente, è che andremo all'isola!» «Misericordia, zio! Avessi mai saputo che dovevo remare dieci interminabili miglia sotto questo sole che cuoce, non mi sarai mai lasciato intrappolare!» «Ma cosa c'è in quella cassa? Delle lastre di pietra? Guardate come la barca affonda!» «E io non ho la minima intenzione di trasportare per dieci miglia delle lastre di pietra! A cosa serve portarle così lontane?» «Ehi, soccone!» disse mio zio fermandosi un istante coi rami in aria. «Smettila di remare! E ormai stammi bene a sentire!» «Se non desideri partecipare alla gloria del mio esperimento, sei completamente indifferente alla prospettiva di condividere la fama immortale!» «Se, bello mio, se non ci tieni affatto ad essere presente al primo esperimento del mio grande apparato idraulico idrostatico per prosciugare paludi e acquitrini e trasformarli in regione di un iugero all'ora in terreni più fertili di quelli della terra promessa?» «E insomma, ti ripeto che se non ci tieni a poter narrare questo superbo esperimento nei giorni futuri, quando da anni e anni la mia povera carcassa sarà scomparsa, se non ci tieni a poterlo narrare ai tuoi figli e ai figli dei tuoi figli, in questo caso, amico, sei libero di sbarcare immediatamente!» «Ma no, zio, io non volevo certo!» «Non un'altra parola, signore!» «Iorpi, prendi il suo remo e portalo a riva!» «Ma, carissimo zio, io vi assicuro che...» «Non un'altra sillaba, signore!» «Voi avete ardito beffarvi apertamente del mio grande apparato idraulico idrostatico!» «Iorpi, sbarcalo subito!» «Ecco, siamo di nuovo in acque basse!» «Iorpi, salta giù e portalo a riva sulle tue spalle!» «Ma sentite, mio caro, mio amato, mio amatissimo zio, perdonatemi questa volta, io non aprirò più bocca sul vostro apparecchio!» «Non aprirai più bocca? Quando l'ultima cosa acquitendo, l'ultima mia speranza, è che diventi famoso e che non si parli d'altro!» «Portalo a riva, Iorpi!» «No, zio, no, non cedo il mio remo!» «Ho anch'io un remo in questa faccenda e non ho la minima intenzione di rinunciarvi!» «Eppure voi risierete defraudarmi della parte che mi spetta in tanta gloria!» «Beh, beh, questo è parlare! Beh, puoi restare, ragazzo! E adesso, forza i remi!» Restammo tutti zitti per un po' di tempo, non badando ad altro che a remare. Infine mi azzardai una seconda volta a rompere il ghiaccio. «Sono molto contento, caro zio, che mi abbiate infine svelato la natura e lo scopo del vostro grande esperimento!» «Cosicché intendete prosciugare le paludi!» «Un tentativo, caro zio, che semmai vi riesce, e sono sicuro che dovrà riuscire, vi procazzerà la gloria che fu negata a quell'imperatore romano che cercò di prosciugare le paludi pontine, ma non ce la fece!» «Da quei giorni il mondo è progredito, almeno la lunghezza del suo diametro!» dichiarò mio zio con orgoglio. «Se quell'imperatore romano si trovasse qui, gli mostrerei io ciò che si può fare nei nostri giorni di progresso e di scienza!» Vedendo che il mio buon zio era ormai così rabbunito da cominciare a far la ruota, io azzardai un'altra osservazione. «È piuttosto faticosa questa gita, caro zio!» «Ragazzo mio, la gloria non la si consegue sedendo in piume, ma lavorando sodo e avanzando controcorrente come facciamo noi ora!» «Mentre la naturale tendenza delle masse è quella di scendere lungo corrente per precipitare nell'oblio!» «Ma perché recarsi così lontano, caro zio? Perché remare dieci miglia?» «Se ben capisco, il vostro unico scopo è quello di mettere alla prova questa vostra straordinaria invenzione. Ora, vi dico, non potreste provarla quasi ovunque?» «Santa semplicità!» esclamò mio zio. «E vorresti che qualche mascalzone mi venisse a spiare e mi defraudasse dei frutti di dieci lunghi anni di ardui e perseveranti sforzi?» «Solitario nel mio schema? Mi recco in un posto solitario per metterlo alla prova. Se fallisco, perché tutto è possibile in questo mondo, nessuno all'infuori della mia famiglia ne saprà mai nulla. Se riesco, sicuro d'aver salvaguardato il segreto della mia invenzione, posso arditamente chiedere qualunque prezzo voglio per renderlo noto. «Vi chiedo scusa, caro zio, ma voi la sapete più lunga di me. Dovresti averlo ormai scoperto da solo, che con gli anni e i capelli grigi la saggezza matura, ragazzo mio!» «Ma guardate un po' i orpi, caro zio. Credete che i suoi cernecchi grigi, in molti anni, gli abbiano fatto maturare il cervello? Sono forse gli orpi, io?» «Ragazzo, vada i remi!» Dopo questo nuovo smacco non dissi più parola, finché la barca non incagliò in una secca, a circa venti iarde dall'isola boscosa. «Zitti!» sussurrò mio zio tutto eccitato. Non una parola adesso. E rimase perfettamente immobile. Poi volse un lento sguardo panoramico sulla circostante regione, fino alle due rive del fiume, assai largo in quel punto. «Attendete che sia passato quel cavaliere laggiù!» sussurrò nuovamente, indicando un minuscolo puntino sull'altra strada rivierasca, che pericolosamente si inerpicava a mezza costa per una lunga serie di colline e strapiombi. «Bene, adesso è scomparso dalla vista, dietro quel boschetto. In fretta, i orpi, ma sta bene attento, mi raccomando. Salta giù e caricati la cassa sulle spalle. E... no, un momento!» Riprendemmo la muta posa immobile di prima. «Ma non c'è un ragazzo là, seduto come zaccheo, su un albero, in quell'orto, sulla riva? Guarda un po' tu, ragazzo. Gli occhi giovani vedono meglio dei vecchi. Non lo vedi?» «Caro zio, l'orto lo vedo, ma non riesco a vedere nessun ragazzo. È una spia, ne sono sicuro. Dicherò improvvisamente mio zio senza neppur badare alle mie parole, scrutando attento e facendosi schermo agli occhi con la mano distesa. «Non toccare quella cassa, i orpi. Giù, accoccolatevi tutti giù!» «Ma sentite, zio, quello che scambiate per un ragazzo non è che un ramo secco, un ramo imbiancato. L'ho ravviso benissimo adesso. Ma tu non guardi l'albero che dico io, dichiarò mio zio con un'aria di sollievo. Ma non importa. Io lo sfido, quel ragazzo. I orpi, salta giù e caricati la cassa sulle spalle. E adesso tu, ragazzo, via le scarpe e le calze. Rimboccati i pantaloni e seguimi. Attento, I orpi, attento. Quella cassa è più preziosa che se fosse zeppa d'oro. «Certo che pesa come se fosse d'oro», frontò l'ho i orpi guazzando e scivolando nell'acqua poco profonda. «Ecco, fermati sotto questi cespugli, qui, tra i giunchi. Così, bene. Piano, piano, mi raccomando. Ti poni laggiù, in questo punto preciso. Adesso, ragazzo, sei pronto tu? Seguimi, ma in punta di piedi. In punta di piedi. Ma non so camminare in punta di piedi in questo fango, zio. E non vedo perché dovrai... Arriva, immediatamente. Ma zio, ci sono già a riva. Basta, insomma, seguimi e stai zitto». Accoccolato nell'acqua, nel riparo sicuro, costituito dai cespugli e dagli alti giunchi, mio zio adesso estrasse guardingo da una delle sue enormi tasche un martello e una chiave inglese e poco dopo cominciò a picchiare sulla cassa. Ma quel rumore subito l'allarmò. «Gli orpi!» sussurrò. «Va a destra, dietro i cespugli!» «E resta di guardia. Se vedi arrivare qualcuno, lancia un fischio. Non troppo forte. E tu, ragazzo, a sinistra. E fa lo stesso!» Gli obbedimmo. Dopo aver picchiato per un certo tempo e aver trafficato, mio zio, tutto solo in quella completa solitudine, ci ordinò ad alta voce di tornare. Gli obbedimmo. E trovammo che il coperchio della cassa era stato rimosso. Pieno di curiosità vi guardai dentro e scorse un'infinita congerie di tupi di metallo e di stantuffi di ogni sorta e varietà, di ogni forma e calibro, inestricabilmente intrecciati insieme in un gigantesco viluppo. Sembrava un pauroso nido di anaconde e di vipere. «E adesso, Iorfi, disse mio zio, pieno di animazione e commosso, al presagio dell'imminente trionfo, tu sta da questo lato e ti enti pronto a inclinare la cassa appena te lo comando. Tu, ragazzo, ti enti pronto a far lo stesso dall'altra parte, ma badate di non muovere neppure la frazione di un millimetro finché non ve lo comando. Tutto dipende dal metterla a punto. Non abbiate paura, zio, starò attento come se mangiassi un rasoio. «State sicuro che non lo sollevo certo, quella cassa di piombo», prontolò il vecchio Iorfi, «finché non me lo comandate voi, non abbiate paura!» «Ragazzo mio», dichiarò allora mio zio, volgendomi un volto illuminato da un raggio di religiosa estasi, mentre un bagliore veramente nobile circonfondeva i suoi occhi grigi, i cernecchi, le rughe. «Ragazzo mio, questa è l'ora che per dieci interminabili anni mi ha sostenuto con la sua promessa, durante la mia operosa oscurità, e la fama sarà tanto più dolce perché arriva in ultimo, tanto più vera perché giungerà a un vecchio come me, non a un ragazzo come te. Oh tu, mio divino sostegno, ti rendo grazie e ti esalto!» A questo punto piegò la testa venerabile, e ve lo giuro sulla mia vita, qualcosa è come una goccia di pioggia, mi cadde dal viso nell'acqua sottostante. «Inclinate!» Noi inclinammo un pochino di più, noi inclinammo un pochino di più, un pochino ancora, noi inclinammo un pocolino ancora, uno scrupolo ancora, un'inezia! Con grande difficoltà riuscimmo a inclinare di uno scrupolo ancora, di un'inezia. Nel frattempo mio zio si era curvato intento a esaminare il tutto, e avrebbe voluto guardare dentro, sopra, sotto la cassa dove si annidavano i groppi delle anaconde e delle vipere. Ma essendo la macchina ormai completamente immersa, la cosa non era fattibile. Allora si rizzò, camminò lento attorno alla cassa, con un aspetto sicuro e fiducioso, come un poco perplesso e irritato. Era evidente che qualcosa non funzionava, ma siccome ero completamente all'oscuro dei misteri di quell'apparecchio, non potevo immaginare in che consistesse la difficoltà o quale rimedio vi si sarebbe potuto apportare. Una seconda volta, ma più lento, più irritato, mio zio fece il giro della cassa, lasciando trappelare la delusione, che controllava ancora, che era ancora illuminata da un barlume di speranza. Era ormai innegabile che qualche previsto effetto non si era verificato. Da parte mia ero più che sicuro che la linea d'acqua attorno alle mie gambe non si era abbassata di un pollice. Inclinate ancora di un capello. Caro zio, è piegato ormai quanto si può. Non vedete che è completamente poggiata sul letto del fiume? Malscalzone di un yorpi! Tira via quella tua zampaccia nera da sotto la cassa! Questo scoppio d'ira da parte di mio zio mi rese la faccenda ancor più dubbia e oscura. Cattivo segno, mi dissi, ma certamente potete inclinarla ancora di un capello. Zio, neppure di mezzo! E allora che sia dannata e maledetta l'infame cassa! Ruggì mio zio con una voce terribile, con una furia improvvisa come un uragano. E correndo verso la cassa la prese a calci, con il piede nudo, e con straordinaria forza ne spaccò quasi un lato. Poi, afferrando l'intera cassa, ne strappò fuori le anaconde e le vipere, rompendole, contorcendole, buttandole a destra e a sinistra per il fiume. Fermatevi, fermatevi, mio caro, mio carissimo zio! Nel nome del cielo, calmatevi! Non distruggete in un momento di rabbia i lunghi anni pazienti che avete dedicato a questa vostra prediletta invenzione. Fermatevi, vi scongiuro! Commosso dalla mia voce vehemente, dalle lacrime irrefrenabili, interruppe la sua opera di distruzione e rimase immobile a squadrarmi, o meglio, a fissarmi con uno sguardo assente, come di persona impazzita. Non avete ancora rovinato tutto, caro zio. Cercate di rimetterla in ordine, la macchina. Avete un martello e una chiave inglese. Rimettete tutto insieme e tentate ancora una volta. Finché c'è vita, c'è speranza. Finché c'è vita ci sarà disperazione, mi urlò. Ma no, ma no, caro zio. Qui, ecco, rimettete insieme questi pezzi. O, se non riuscite a rimettere tutto senza gli utensili adatti, provatene almeno una parte. Anche una parte potrà servire. Provate ancora una volta. Provate, zio. La tenacia con cui cercavo di persuaderlo sortì il suo effetto. L'invincibile troncone della speranza, inutilmente zappato e sradicato, fece fiorire un'ultima fronda miracolosa. Attento, non ancora vinto, estrasse dalle rovine alcuni frammenti di più curioso aspetto e misteriosamente li inserì uno nell'altro. Poi, liberando la cassa, lentamente ve li dispose dentro e ordinando ai orpi e a me di riprendere la nostra posizione di prima, ci ingiunse infine di inclinarla una seconda volta. Noi gli ubbidimmo. Ma non verificandosi alcun risultato, io mi aspettavo da un momento all'altro di udire gli ordini già ricevuti e di inclinare un po' di più. Quando, lanciato uno sguardo a mio zio, sobbalzai atterrito. Il volto gli si era contratto, rattrappito, soffuso di un biancore malato, come un grappolo bruciato dalla ruggine. Lasciai stare la cassa e gli balzai accanto, appena in tempo per impedirgli di cadere. Abbandonando la sciagurata cassa dove l'avevamo deposta, gli orpi ed io aiutammo il vecchio a risalire sulla barca e, in silenzio, ci allontanammo dall'isola di Quasce. Quanto rapida la corrente ci portava adesso a valle, con quanta fatica avevamo cercato prima di risalirla. Ripensai alla frase del mio povero zio, pronunciata neppure un'ora prima, sulla tendenza dell'umanità a seguire la corrente per precipitare nel più completo oblio. «Ragazzo», disse mio zio infine sollevando la testa, io lo guardai ansioso e fui lieto di osservare che la faccia era tornata quasi normale. «Ragazzo, non ci è rimasto più molto in questo vecchio mondo che un vecchio possa ancora inventare». Non risposi nulla. «Ragazzo, segui il mio consiglio e non cercare mai di inventare nulla, tranne... la felicità!» Non dissi nulla. «Ragazzo, vila di bordo e torniamo a prendere la cassa!» «Ma, caro zio, servirà sempre a riporvi la legna da ardere, ragazzo! E qui il mio fedele Iorpi potrà vendere i pezzi di ferro per comprarsi un po' di tabacco!» «Padrone, caro padrone, è la prima volta da dieci anni che avete detto una parola gentile al vecchio Iorpi! Vi ringrazio, padrone, caro padrone! Vi ringrazio con tutto il cuore! Siete di nuovo tornato a quello di prima, dopo questi dieci lunghi anni!» «Già, lunghi come le orecchie di un asino», sospirò mio zio, «come quelle di certi animali di esopo!» «Ma adesso tutto è finito!» «Ragazzo, sono contento d'aver fallito!» «Ti assicuro, ragazzo, che il fallimento mi ha reso buono!» «Nel primo momento è stato terribile!» «Ma adesso sono contento d'aver fallito!» «Si ha ringraziato Dio di questo fallimento!» Il volto gli si illuminò di uno strano, rapito entusiasmo. «Non ho mai più dimenticato quello sguardo!» Se quel fiasco rese mio zio un bravo vecchio, come diceva lui, «certo, rese me un giovane saggio!» L'esempio mi tenne luogo di esperienza. Alcuni anni appresso, e il mio caro vecchio zio aveva cominciato a declinare, e dopo placi di giorni di autunno contento era andato a raggiungere i suoi padri, e il vecchio fedele Iorpi gli aveva chiuso gli occhi. Alcuni anni appresso, quando volse un ultimo sguardo al suo volto venerando le pallide labbra rassegnate parvero muoversi. E mi parve udire nuovamente la sua profonda e fervida esclamazione. «Si ha ringraziato Dio di questo fallimento!» «Si ha ringraziato Dio di questo fallimento!» «Si ha ringraziato Dio di questo fallimento!» «Si ha ringraziato Dio di questo fallimento!»